Ben ritrovati da Simone Nardone. Si è spento all'età di 59 anni il DJ Claudio Coccoluto, nato a Gaeta e che ha incantato per anni le piste da ballo del Golfo di Gaeta e di Sperlonga, prima di arrivare sulle piazze di Roma e di Napoli e diventare anche una stare internazionale. La notizia di questa mattina ha sconvolto generazioni di appassionati di musica. Coccoluto è venuto a mancare nella propria casa di Cassino dove combatteva da circa un anno contro una malattia. Covid-19, casi in calo, ma si spera non sia il fattore weekend. 76 nuovi positivi riscontrati in provincia, di cui 29 nel sud Pontino, dove i numeri più corposi vengono registrati a fondi a formia con 7 casi ciascuno. Parliamo ovviamente del bollettino di lunedì, primo marzo. Una persona è deceduta, si tratta di un paziente di Latina. Sono invece 1.763 le persone guarite nelle ultime 24 ore ed inserite nel bollettino ASL, seppur nel numero molto evidente ci sono anche dei recuperi dei giorni precedenti. Boom di casi di nuovo coronavirus in una struttura per anziani di Terracina. A battere la notizia il quotidiano Latina Oggi, che nella giornata di ieri parlava del caso particolare, poiché sia gli ospiti che il personale sanitario avevano ricevuto la prima dose del vaccino ed erano in attesa del richiamo, a dimostrazione che una sola dose non basta per evitare il contagio. Il piano vaccini continua ad interessare, soprattutto per via dei numeri che vedono il Lazio come prima regione italiana, per numero di somministrazioni agli over 80, si tratta di ben 120.000. Intanto ieri l'assessore alla sanità D'Amato, insieme all'unità di crisi del Lazio in merito all'emergenza, ha spiegato come, dopo l'accordo con i medici di base, la regione sarebbe pronta a vaccinare fino a un milione di persone al giorno. Rimane il problema dell'approvvigionamento delle dosi. Incidente sul lavoro, ieri a Gaeta, in una tipografia in via Lungomare Caboto, a rimanere ferito un uomo, secondo quanto riportato dal portale h24notizie.com, stando alle notizie trapelate, si sarebbe ferito dopo essere rimasto incastrato in un macchinario per la lavorazione dei fogli di carta. Sul posto, oltre ai sanitari del 118, anche i vigili del fuoco. Nei giorni scorsi si è svolta a Fondio una commissione speciale con la partecipazione dei vertici del mercato ortofrutticolo. Si è parlato dei progetti, tra cui anche un campo sperimentale per produzioni di eccellenza, ma alcune opposizioni, tra cui quella che faceva parte in campagna elettorale a Luigi Parisella, hanno spiegato come nel presidente Quattrociocchi, che è di nomina regionale, e ne Enzo Addessi, che è rappresentante dei privati, sono stati, a loro modo di vedere le cose, esaustivi nel comunicare la situazione di crisi del mercato. Questa è la nostra ultima notizia e prima di salutarci vi ricordiamo che sul nostro sito web radiocivitemblue.it trovate tante altre news. Un saluto da Simone Nardone e a risentirci alla prossima edizione del GR Locale. Grazie a tutti.